Lo aveva detto ed ha rispettato la promessa, Matteo Salvini tornerà a Voghera per supportare il candidato sindaco Aurelio Torriani al ballottaggio. L'appuntamento con il segretario federale della Lega Nord è fissato per domani sera, venerdì 5 giugno alle 18.30, presso il comitato elettorale della coalizione con Torriani, candidato sindaco, in piazza Duomo a Voghera. Tramite la propria pagina Facebook, il carroccio ha detto la sua sul caso Ghezzi, specificando che il ballottaggio sarebbe dovuto essere tra Torriani e il candidato sindaco del Partito Democratico, ma che purtroppo il gioco sporco ha danneggiato Voghera e tutte le altre liste. Sembra più che ovvio il riferimento a Carlo Barbieri di Forza Italia, che al primo turno ha portato a casa il 34,7% delle preferenze con 6.616 voti, 1.450 in più rispetto a quelli di Torriani.